Con l'i-cord lavorato lungo il bordo verticale di una maglia possiamo rifinirla abbastanza facilmente e completata per esempio la metà del davanti, possiamo sagomare la scollatura e rifinirla con l'i-cord contemporaneamente, idem per gli scalfi di un gilet. Per poterlo fare bisogna avere la nozione dell'i-cord, dei ferri accorciati e saper fare le diminuzioni semplici con l'inclinazione a destra e a sinistra. L'i-cord perché dobbiamo lavorare l'i-cord? I ferri accorciati ci serviranno per creare la curva iniziale, quella che sale dolcemente, e le diminuzioni per il tratto quasi verticale della scollatura, ma anche per poter agganciare l'i-cord al resto della maglia con una determinata inclinazione. Se prendiamo questa metà, poniamo che questa sia la metà del davanti di una maglia, con l'inclinazione a destra, nell'altra metà con l'inclinazione a sinistra, in modo che segua la curva. Possiamo destinare all'i-cord da 2 a 4 maglie, più di 4 non conviene, io faccio 3, e quale che sia il resto della maglia, Quando siamo sul diritto del lavoro, le maglie dell'i-cord le lavoriamo a diritto, e sul rovescio, queste maglie le passiamo a rovescio con il filo davanti, in modo che il filo rimanga sul rovescio del lavoro. Passare a rovescio vuol dire entrare nella maglia, da destra verso sinistra, e spostarla sul ferro destro, senza lavorarla. Poi lavoriamo il resto della maglia, come richiede il punto. Per creare la scollatura a ferri accorciati, dovremo escludere dal lavoro porzioni di maglie, in modo da lavorare una parte sempre più stretta, che così cresce, mentre la scollatura rimane più bassa. Come fare questi calcoli, l'ho già spiegato in un altro video, qua a titolo di esempio, escluso l'i-cord, ho messo il punto in cui girerò il lavoro per la prima volta a 6 maglie dal bordo, poi 3, poi 2 e 2. Dopodiché si faranno le diminuzioni semplici, di solito si fa all'inizio ogni 2 ferri, e poi ogni 4 ferri. Stabiliti dunque i punti in cui girare il lavoro, prima di tutto dobbiamo sagomare la scollatura. E quindi, lavorando come richiede il mio punto, arrivo nel punto più vicino al bordo, giro il lavoro, e per non lasciare buchi, uso il metodo alla tedesca. Con il filo davanti, passo la prima maglia, e tiro il filo forte verso dietro, in modo da girare questa maglia, e procurarmi queste due zampine, che successivamente lavorerò insieme come un'unica maglia, e torno indietro. Al ferro successivo, mi fermo in questo punto, giro il lavoro, faccio la stessa manovra per non lasciare buchi, passo la maglia col filo davanti, e tiro verso dietro, e completo il ferro di ritorno. Poi mi fermo nel terzo punto, giro il lavoro, passo la prima maglia, tiro il filo verso dietro, e torno indietro, ed ecco l'ultima volta. Ripeto, quante volte fare questa operazione, e quante maglie coinvolgere, dipende dalla profondità della scollatura desiderata, e dal nostro filo. In tutta questa lavorazione, l'I-Cord per ora non c'entra, se ne sta a riposare, messo in sospeso, insieme a tutte queste porzioni. Finiti i ferri accorciati, che ci hanno fatto crescere solo la parte laterale, arrivo fino alla fine, e vado a coinvolgere anche il mio I-Cord. Quando arrivo alle maglie che avevo girato, per non lasciare buchi, dove troverò due zampine, queste due zampine, le lavoro come un'unica maglia. Queste non sono due maglie, è una maglia che ho girato. Eccone un'altra. E' la terza. E' la quarta. Superati questi punti in cui avevo girato il lavoro, arrivata all'I-Cord, lavoro a diritto le mie tre maglie, dopodiché non giro il lavoro, ma rimetto queste tre maglie sul ferro sinistro. Il filo rimane dietro. Mentre prima il mio I-Cord salivo in verticale, ora dovrà seguire la curva quasi orizzontale e agganciarsi al resto della maglia. Per legarlo al resto della maglia, sposto sul ferro sinistro anche la prima maglia del corpo della maglia. Non importa il punto con cui è lavorato il resto della maglia, non importa se questo è un rovescio, un diritto, che maglia è. Perché questa maglia andrò a lavorarla insieme alla prima maglia dell'I-Cord a diritto con l'inclinazione a destra. Il filo rimane dietro. Lavoro queste due maglie insieme e poi a diritto le altre due maglie dell'I-Cord. e ripeto l'operazione. Rimetto le tre maglie dell'I-Cord sul ferro sinistro, aggiungo una maglia del corpo della maglia e di nuovo questa maglia la lavoro insieme alla maglia dell'I-Cord con l'inclinazione a destra. Perciò prendo queste due maglie insieme a diritto classico e le lavoro. Qua bisogna stare attenti alla tensione del filo che non deve essere eccessivamente stretto né tanto o meno troppo lasco. Infatti si vede che tende ad allentarsi. teniamolo a bada rimetto sul ferro sinistro le maglie dell'I-Cord e aggiungo un'altra maglia del corpo della maglia e di nuovo due insieme a diritto 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 torno indietro una due e tre maglie dell'I-Cord più una maglia del corpo della maglia che vado a lavorare insieme alla prima maglia dell'I-Cord e così l'I-Cord si lega al resto della maglia ed è come se si sdraiasse sopra la scollatura i marca punti man mano che li supero li posso anche togliere non mi servono più ecco qua questa maglia cercava di allentarsi bisogna regolare la tensione del filo e vado avanti così il risultato è questo l'I-Cord dal verticale è passato in orizzontale lavoro in questo modo fino ad incorporare tutte quante le maglie coinvolte nei ferri accorciati quando arrivo all'ultimo punto in cui avevo girato il lavoro lavoro queste maglie insieme come prima due insieme e poi due diritti e a questo punto giro il lavoro e arrivo fino al fianco quando giro il lavoro porto il filo davanti passo le maglie dell'I-Cord e proseguo lavorando il resto della maglia in questo punto è meglio lavorare le maglie strette perché tende ad allentarsi e dopo seguo il mio piano delle diminuzioni sicuramente al ferro successivo e per alcuni altri ferri un ferro sì un ferro no per esempio solo all'andata devo diminuire una maglia per fare questa diminuzione lavoro come prima l'ultima maglia del corpo della maglia insieme alla prima maglia dell'I-Corn sempre come due insieme a diritto con l'inclinazione a destra qua si può vedere che questa maglia ha cercato di allentarsi e io ridistribuisco un po' il filo poi giro il lavoro passo di nuovo le maglie dell'I-Cord e faccio queste diminuzioni all'andata alla fine del ferro dell'andata tante volte quante mi serve poi magari per far salire la scollatura più in verticale non devo fare la diminuzione ad ogni ferro di andata ma ogni quattro ferri e allora il ferro quando non devo fare le diminuzioni lo lavoro normalmente come quando rifinisco semplicemente il bordo di una maglia con l'I-Corn verticale cioè lavoro il corpo della maglia senza nessuna maglia insieme ad un'altra lavoro le tre maglie dell'I-Cord giro il lavoro passo le tre maglie dell'I-Cord ho due o quattro a seconda di quanto è largo il mio I-Cord e finisco il ferro di ritorno e quando poi secondo il mio programma devo fare la diminuzione lavoro l'ultima maglia del corpo della maglia insieme alla prima maglia dell'I-Cord e procedo in questo modo e così l'I-Cord da verticale è diventato orizzontale poi obliquo poi è tornato verticale scusate le barbature evidentemente non ho mantenuto la giusta tensione del filo per farlo dall'altra parte faremo tutto allo specchio e le diminuzioni saranno inclinate verso sinistra perché la scollatura non sarà più questa ma questa nascondiamo la parte lavorata facciamo che questo sia il fianco questa è la metà destra del davanti la scollatura è qua questo è il bordo che ho cominciato a rifinire con l'I-Cord faccio vedere solo due ferri accorciati anche per mancanza di spazio metto un marca punti sempre a sei maglie dal bordo senza contare l'I-Cord e un altro dopo altre tre maglie l'I-Cord lo lavoro come al solito ho passato le maglie quando ero sul rovescio senza lavorarle sul diritto lavoro le tre maglie dell'I-Cord a diritto e poi lavorando come prevede il mio punto arrivo fino in fondo al ritorno non faccio tutto il ferro ma mi fermo nel punto rosso lascio la parte che corrisponde alla parte iniziale della scollatura in sospeso lavoro l'ultima maglia a rovescio classico giro il lavoro lascio il filo davanti passo la prima maglia tiro il filo verso dietro e giro questa maglia arrivo alla fine del ferro e cioè al fianco di ritorno sul rovescio del lavoro mi fermo ancora più lontano dal bordo giro il lavoro sempre evitando di provocare buchi in seguito e faccio tanti ferri accorciati quanti richiede la profondità del mio scollo quando ho finito torno al bordo all'i-cord lavorando come prima le maglie che ho girato queste due zampine come un'unica maglia perché è un'unica maglia cerco di tenere il filo anche abbastanza stretto in questi punti arrivo all'i-cord passo le tre maglie del line-cord giro il lavoro lo lavoro una volta come al solito come ho fatto anche dall'altro lato si potrebbe anche iniziare subito a incorporare le maglie del corpo della maglia nell'i-cord così la curvatura verrebbe più arrotondata invece se lavoro queste tre maglie poi le rimetto sul ferro sinistro e ora comincio ad agganciare avremo un angolo che assomiglia di più all'angolo retto dunque le prime due maglie dell'i-cord a diritto e la terza l'ultima la devo unire al corpo della maglia per ottenere da questa parte l'inclinazione verso sinistra faccio un'accavallata passo l'ultima maglia dell'i-cord lavoro la prima maglia del corpo della maglia e accavallo rimetto le maglie dell'i-cord sul ferro sinistro lavoro a diritto le prime due e l'ultima di nuovo la passo lavoro una maglia del corpo della maglia e accavallo la maglia dell'i-cord la faccio tornare sul ferro sinistro diritto diritto e accavallata rimetto sul ferro sinistro diritto diritto accavallata accavallata a questo punto vedo le maglie allentate posso anche avvicinare le maglie tirando su il filo che unisce le maglie del ferro precedente e lavorandolo insieme ad una delle maglie che ho sul ferro perché a volte succede l'importante è rimediare e poi giro il lavoro e come al solito passo le tre maglie dell'i-cord senza lavorarle e se lo schema delle diminuzioni non prevede una diminuzione in questo momento lavoro le tre maglie dell'i-cord a diritto e poi proseguo quando invece devo fare la diminuzione la stessa tattica lavoro le prime due maglie dell'i-cord e con la terza faccio l'accavallata la passo lavoro la maglia successiva che appartiene al corpo della maglia e accavallo l'accavallata